Se hai cliccato questo video probabilmente ti interessa scoprire qualcosina di più su Canon EOS R5. Noi abbiamo qui in prova questa fotocamera e oggi andiamo a vedere com'è strutturato il body e come sono disposti i vari bottoni e le varie ghiere su di esso. Abbiamo già realizzato su questo canale un video unboxing proprio di questa camera, ve lo linko in descrizione. Nel caso fosse la prima visita vi ricordo che questo è un canale che tratta spesso di temi di fotografia, video making e design per cui se questi argomenti ti stanno a cuore io ti invito a iscriverti cliccando il bottone qui sotto e attiva anche la campanella così non ti perdi gli prossimi aggiornamenti su questa e altre fotocamere e videocamere. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare e oggi andremo appunto a vedere com'è configurato il body di Canon EOS R5. È una fotocamera di cui vi ho già dato le mie first impression nel video unboxing che vi ho già lasciato in card. Vi posso dire che più la si tiene in mano e più ci si affeziona una camera come questa perché è veramente costruita da Dio. Adesso al di là del gusto personale a me piace molto il design della scocca, mi piace più di Nikon, mi piace più di Sony. Poi per quanto riguarda le prestazioni sono altri discorsi ovviamente ma oggi andiamo a vedere semplicemente com'è configurato il body. Bene, credo che possiamo cominciare esaminando la parte superiore che alla fine potrebbe essere quella più importante perché è quella dove si trovano l'otturatore e il pulsante per far partire la registrazione video, quindi è un'area che ci interessa particolarmente. Ovviamente qui abbiamo la nostra solita ghiera che sicuramente regola i tempi, sul retro invece abbiamo la ghiera che regola l'apertura, quindi per quanto riguarda questo non ci sono grossi cambiamenti. Sempre qui sopra, quindi a portata d'indice, abbiamo il bottone MF, quindi il multifunction, abbiamo il bottone Lock, quindi per bloccare gli altri bottoni della fotocamera qualora volessimo mantenerla esattamente come l'abbiamo impostata e poi abbiamo il bottoncino della luce per illuminare il display LCD sul top della fotocamera, quindi solite cose, niente di nuovo. Ora qui sul top, come potete vedere, abbiamo il bottone Mode intorno alla nostra solita ghiera. Questa è una cosa di cui ho già parlato in video precedenti, è una cosa che a me non piace. Io preferivo avere la ghiera che c'era prima per le modalità perché così vedevo quello che avevo impostato anche senza bisogno di toccare la camera. Quindi è una cosa che a me non piace, però questo è e quindi questo vi mostro. Ovviamente qui, come potete vedere, abbiamo il display che ci mostrerà delle informazioni di scatto su tutto quello che abbiamo impostato. Se andiamo dall'altra parte, abbiamo il bottone di accensione. Ora, il bottone di accensione è ben costruito, ovviamente tutto bene. L'unica cosa che un po' mi lascia a desiderare è appunto il fatto che abbia soltanto due posizioni, è un selettore a due posizioni. Se avete seguito i miei video su Canon EOS R7, ve li lascio in card, andateveli a recuperare, vedrete che Canon EOS R7 ha un selettore di accensione a tre posizioni con già la modalità video impostata. Questa secondo me era una comodità immensa perché con un solo clic potevamo decidere subito se fare foto o video. Invece qui dobbiamo andare a premere Mode e poi il pulsante Info. Quindi sono due bottoni per andare a dirgli che vogliamo switchare dal sistema operativo video a quello foto. Poteva essere gestita meglio questa cosa secondo me, ma va bene così. Passiamo al lato che è una cosa spesso e volentieri sottovalutata. Invece no, è molto importante questo lato perché qui vi faccio vedere, qui abbiamo la porta microfonica e l'uscita cuffie. Sono cose molto molto importanti a livello professionale perché se noi vogliamo realizzare delle riprese video abbiamo bisogno sì di entrare con un microfono, ma se abbiamo la possibilità di fare monitoring anche è una cosa ideale perché così sentiamo se il nostro audio viene ripreso correttamente. Poi abbiamo la porta dell'ingresso per i flash, quindi se utilizziamo dei vecchi flash con i cavetti possiamo ancora entrare in questa fotocamera perché abbiamo una porta dedicata e poi abbiamo USB HDMI, quindi le solite cose che abbiamo su tutti i corpi macchina. Queste due servono soprattutto per attaccare dei monitor esterni o per connetterle ad altri device, quindi non sono cose scontate perché se abbiamo rigato la camera e vogliamo un monitor esterno si passa da qui. Due parole sul fronte della fotocamera. Allora qui abbiamo ovviamente il tappo, qui abbiamo il bottone che non l'ho ancora testato, però sono abbastanza certo che questo bottone serva per avere la corretta percezione della profondità di campo e dell'esposizione. Una volta che lo andiamo a cliccare dovrebbe farci vedere quella che è la profondità di campo reale, almeno sulle vecchie camere era così. Qui potrebbe anche essere semplicemente stato relegato a una funzione di lampo flash di prova. E' possibile che ci sia questa distinzione che non ho ancora testato, credo che sia una di quelle due cose perché in questa posizione sui vecchi modelli c'era questo. Qui, non so se riuscite a vedere, qui c'è questa cosina piccolina che dovrebbe essere il lampo assist per la messa a fuoco, quindi c'è anche questo. Non è un bottone ma ve lo segnalo comunque perché è qui. Ora andiamo a vedere il retro. Il retro è interessante perché qui abbiamo una serie di cose. Allora partiamo dal basso che ce la sbrighiamo in fretta. Qui abbiamo i bottoni di preview e cestino, quindi abbiamo la possibilità di andare a vedere le nostre immagini scrollandole e andando a cancellare quelle che non ci piacciono, quelle che non sono venute bene. Abbiamo anche la lente di ingrandimento per andare a ingrandire un'immagine se vogliamo essere sicuri e vederla meglio. E questo è un display ad altissima risoluzione, quindi finalmente riusciamo a vedere bene quello che abbiamo fatto. Qui abbiamo la rotella che ci permette di passare da una foto all'altra oppure di passare da una voce all'altra del menu con il nostro pulsante set. Abbiamo ovviamente i pulsanti Q e Info che sono essenziali perché il pulsante Q ci permette di accedere al menu con le impostazioni. Il pulsante Info ci permette di vedere le info su un materiale che abbiamo scattato e di passare tra una modalità di visualizzazione e l'altra. Non solo, ma il pulsante Info in combinata con il pulsante Mode ci permette di passare tra la modalità foto e la modalità video. Come già detto a me non piace questa modalità di switch, però tant'è e quindi ve lo segnalo. Qui abbiamo i soliti bottoni, quindi il lock dell'autofocus e l'AF-ON. Sono bottoni che io utilizzo pochissimo e sono bottoni anche personalizzabili, nel senso che dovrebbe essere possibile abbinargli delle funzioni specifiche, proprio come il tasto multifunzione che abbiamo qui sopra. Dovrebbe essere possibile abbinargli delle funzioni specifiche in base a quello che è il nostro flusso di lavoro. Per cui io non li uso tanto e soprattutto non li userò su questo corpo perché non mi serviranno, però vi segnalo che ci sono. Ultime cose che vi faccio vedere, su questo lato della fotocamera abbiamo il bottone Menu, che quindi è il solito bottone che apri i famosi menu di Canon, famosi per la loro facilità di utilizzo. Di fianco abbiamo un bottone che si chiama Rate e ha di fianco l'icona di un microfono. Ora questa probabilmente è una nuova funzione che magari serve a mettere una votazione sulle nostre immagini in maniera tale che già in camera abbiamo un tipo di mark, se abbiamo un materiale buono piuttosto che un materiale non buono abbiamo già la possibilità di segnarlo con una sorta di stellina o qualcosa del genere. Il fatto che ci sia un microfono di fianco mi dà da pensare che ci sia la possibilità di registrare anche un commento audio su un materiale in modo da ricordarsi magari che un particolare file o una particolare clip serve a una determinata cosa. In realtà sto tirando a indovinare su quest'ultimo perché non l'ho mai testato e non sapevo nemmeno che ci fosse, quindi non mi sono neanche informato sul suo reale utilizzo. Se qualcuno di voi lo utilizza e sa che cosa serve me lo scriva in un commento così ne parliamo e poi pinno il commento e rimane a disposizione di tutti quanti quelli che vorranno scoprire di più su questa fotocamera. Ho lasciato per ultimo il biscottino più dolce ovviamente perché qui abbiamo il joystick. Fanatici del joystick abbeveratevi a questa fonte. Come potete vedere abbiamo un bellissimo joystick, fra l'altro è molto molto morbido quindi credo che l'utilizzo sia veramente gradevole. Questo ovviamente serve sia per i punti di messa a fuoco sia per navigare nei menu però ragazzi io continuo a dirvelo, non so più come dirvelo. Secondo me il joystick non serve per i punti di messa a fuoco perché su una fotocamera come questa la messa a fuoco si gestisce dal display. Quindi io mentre scatto andrò con il pollice a mettere a fuoco sul display. È quello il futuro, mica il joystick. Quindi ve lo faccio vedere, c'è, so che molti apprezzeranno. Ve lo dico anche, non vi aspettate che fra vent'anni ci sia ancora il joystick. Non ci sarà più, ci saranno altri metodi. Canon EOS R3 mette a fuoco utilizzando la nostra pupilla. Quello che guardiamo dentro è quello che viene messo a fuoco. Per cui scordatevelo il joystick fra un po' perché non penso che sia una cosa che andrà avanti in eterno. Bisogna abituarsi a utilizzare il pollice sul display. Ve lo dico anche perché è pieno di ragazzini là fuori, ma veramente ragazzini, che queste cose le fanno in automatico e fanno dei lavori migliori di quelli che facciamo noi vecchi. Mi metto dentro nella categoria dei vecchi perché ormai mi reputo tale. I giovani fanno cose migliori di quelle che facevamo noi perché abbracciano queste nuove tecnologie senza stare a farsi il problema del joystick. Quindi noi abbiamo due possibilità. Possiamo stare a fare i vecchi gufi e a dire che vogliamo il joystick per tutta la vita. Però questi ci bagnano il naso se non cominciamo a utilizzare anche il display. Quindi io ve lo dico. Ultima cosa che non vi ho ancora detto, ovviamente qui sull'oculare abbiamo il sensore che ci permette di passare tra modalità oculare e modalità display. Quindi nel momento in cui ci avviciniamo a questo sensore il display si spegne e si passa in modalità viewfinder. Ultima cosa che ancora non vi ho detto, ovviamente abbiamo la hot shoe per agganciare un flash, per agganciare un altro tipo di device. Per esempio io ogni tanto qui sopra attacco o un trigger o una luce supplementare o ci si può anche attaccare magari un monitor se non è troppo grande. Insomma ci sono svariati utilizzi per la hot shoe. Un'ultima cosa che non vi ho ancora fatto vedere ma che è scontatissima. Ovviamente il display è articolabile quindi si può fare quello che si vuole e si può anche chiuderlo al contrario in maniera tale che non prenda graffi o cose del genere quando l'abbiamo a tracolla. Se siamo dei turisti e vogliamo passeggiare lo chiudiamo così non corriamo questo rischio. Devo dire la camera globalmente mi sembra costruita molto ma molto bene oltre a essere veramente molto molto bella. Io sono particolarmente fan di questa nuova scocca che hanno fatto. La trovo un'operazione di design veramente molto ben concepita. È veramente bella secondo me. Purtroppo come vi ho già detto nel video sull'unboxing che vi ho lasciato in card non avrò la possibilità di farvi una recensione vera sul campo con un lavoro vero fatto con questa camera. Potrò testarla semplicemente per quanto riguarda la velocità di messa a fuoco e la tolleranza ad alti ISO che credo comunque che sia buona anche se mi segnalano da più parti che visto il sensore da 46 mi sembra megapixel la sensibilità ad alti ISO è migliore su Canon EOS R6 che di megapixel ne ha solo 20 quindi meno megapixel avrà un pochettino di tolleranza in più quando si va a lavorare ad alti ISO. Questa è l'ennesima cosa che vi segnalo. Nel momento in cui ovviamente andate a prendere R6 o R5 siete in una botte di ferro perché queste camere sono pazzesche sia una sia l'altra. Ovviamente siccome hanno un bel costo è importante capire per cosa le usate e come si integrano nel vostro flusso di lavoro perché spendere 4.300 euro per una fotocamera da 46 megapixel quando magari fate solo video e vi bastava la R6 è un peccato. Quindi è sempre bene andare a informarsi. Bene amici spero che il video sia stato esaustivo a sufficienza. Ovviamente io non ho ancora provato sul campo questa fotocamera quindi non ho ancora utilizzato tutti i tasti personalizzati. La utilizzerò in maniera molto molto base perché quello che mi serviva di questa fotocamera sono semplicemente un po' di modalità interne soprattutto per quanto riguarda il timelapse quindi non ho veramente la possibilità di testarla sul campo per un lavoro vero in modo da farvi vedere tutte le features che mette in campo questo meraviglioso pezzo. In particolare non avrò la possibilità di testarla veramente sul campo per quanto riguarda la fotografia e il video avrò la possibilità di realizzare solamente dei timelapse. Forse la utilizzerò per fare still life ma lì è veramente poca cosa perché lì sarebbe come utilizzare una vecchia 5D non mi cambierebbe granché. A questo punto vi aspetto nei commenti se qualcuno di voi ce l'ha se qualcuno di voi si sta trovando bene o male fatemelo sapere in un commento lasciate anche un like a questo video se l'avete visto fin qui significa che a qualcosa vi sarà pur servito io e Canon EOS R5 vi diamo appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti!